Magi ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Magicalo e benvenuti in un nuovo gioco da pro gamer! Oggi siamo su... Pink Pony Mi avete detto che era un gioco da pro gamer? Non lo so Il titolo non è che mi ispiri molto, però possiamo provarci, dai, diamoci una possibilità a questo gioco Le mappe Ma scusate, la canzone era un po' da fenninucce, devo dire Allora, siamo un pony rosa Che corre su un... Oddio la mappa è un cuore, oh mio dio La musica fa un po' rabbrividire la mia mascolinità Questo pony rosa sta correndo e io lo sto... Butta fuori dei cuoricini Cuoricini Oh mio dio Ma che cazzo No ragazzi, io non posso... C'è l'autostrada intanto Che passa vicino a casa mia Allora, dobbiamo raccogliere questi cuoricini Eccoci qua Ok E questo pony rosa praticamente deve andare in giro a raccogliere questi cuoricini, no? Bellissimo gioco, grafica pazzesca Buttiamoci nell'acqua E siamo morti Proviamo qualcosa di un po' più competitivo Mettiamo qualche avversario, credo Facciamo tre, dai Facciamo questo coso E partiamo Vediamo cosa succede Allora, mi sta venendo il dubbio che questo gioco è tipo GL Tron E infatti è Tron Porca miseria Un Tron per femminucce hanno fatto Ma come cazzo si sono permessi? Come cazzo hanno fatto a rovinare un gioco del genere? Dio, ti ammazzo Ma porca miseria È veramente GL Tron questo gioco Non è impossibile Un gioco per femminucce trasformato in questa maniera Devo raccogliere due curici Vediamo, dai Proviamo a vedere Ma porca miseria Ti ammazzo sto pony Dai Ti proviamo Che cazzo Sono pony kamikaze proprio Io ti ammazzo Vieni qua Vieni qua Bel pollicino Pony, 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 pony Vieni Vieni, pony, pony O perchè io sono il pony rosa Perchè io Io al massimo dovrei essere il Oddio Questo mi ammazza Io lo odio Odio tutti Che cazzo che mi ha dato sto gioco Chi è?